Musica Bentornato Cutler, bentornata Terminiamo la spiegazione delle reti cablate e wireless Cosa andiamo a fare? Dopo aver creato la tua prima rete cablata Ora vieni a vedere come poter condividere risorse hardware E come gestire le reti senza fili Per condividere risorse hardware Quindi condividere un qualsiasi dispositivo come una stampante Su ogni computer dovrai eseguire l'installazione Che si configurerà con una stampante di rete Facendo acquisire ad ogni dispositivo i driver Per poter comandare tale stampante Per prima cosa accendi la stampante naturalmente Dopodiché clicca sul pulsante Start E dal menu che si crea Clicca sul pulsante dispositivi e stampanti Nella successiva schermata Clicca sul pulsante Aggiungi stampante Ora dovrai selezionare o una stampante locale Se hai una stampante collegata esclusivamente a questo computer Ma non è questo il caso Nel caso nostro invece dovremo aggiungere una stampante di rete Che potrà anche essere wireless o bluetooth Quindi clicca su questo pulsante Nella successiva schermata Il sistema avvierà una ricerca delle stampanti in rete Ossia tutte le stampanti accese, alimentate e collegate ai vari computer Quando verrà evidenziata la stampante di due interessi In questo caso ne troverà una soltanto Interrompi pure la ricerca Cliccando appunto sul pulsante Interrompi Nella schermata successiva Clicca pure su Avanti E inizierà il download dei driver Download quindi scaricamento dei driver Che avverrà dal computer principale Ossia quello nel quale è installata la stampante in locale Dal computer a cui è collegata la stampante via cavo Al termine una notifica schermo Ti avviserà dell'avvenuta installazione della stampante Che sarà possibile a questo punto Condividere tra tutti i dispositivi della rete Ora non ti resta che ripetere tale operazione Su tutti i computer che hanno accesso alla rete Cosicché ogni utente potrà stampare ciò che necessita Avendo a disposizione un solo dispositivo di stampa Potranno anche eseguire particolari impostazioni personalizzate Per le loro stampe Infatti dalla configurazione di accesso dal loro computer Potranno accedere alle impostazioni Con le quali potranno variare la densità di inchiostro, il colore, la stampa in scala di grigi e così via In modo da evitare di cambiarle ad ogni stampa Proprio come se fosse la loro stampante e l'unica stampante del computer A questo punto per l'invio di stampa dovranno semplicemente alzarsi dalla scrivania Per avviarsi verso la stampante e ritirare il contenuto E un discorso per le reti wireless? Finora ti ho descritto come condividere risorse sulle reti cablate Nel caso di condivisione tra computer e dispositivi Ma con reti senza fili oppure miste La procedura non è molto diversa Innanzitutto i ricetrasmettitori wireless di ogni dispositivo Di ogni notebook, di ogni computer Dovranno essere accesi Dopo e scontato che tra l'altro Questi dispositivi siano resi visibili Dalle impostazioni interne del dispositivo stesso Qualora in seguito non venissero rilevati nella ricerca dei vari dispositivi Ovviamente controlla che sia attivata l'opzione per rendere visibile l'apparecchio stesso Altrimenti ad una ricerca non sarà mai visibile Ovviamente anche il modem router dovrà avere attiva la funzionalità wireless Se fosse prevista da questo modem router E tra l'altro aggiungiamo il fatto di realizzare una connessione non libera ma cifrata Anche se sei ben cosciente che sarà possibile scardinare tale cifratura Per creare una rete di condivisione senza fili Dovrai replicare la procedura mostrata Per creare un gruppo di condivisione home Come quello cablato La differenza è che i vari dispositivi cablati Sono immediatamente connessi alla rete E quindi la condivisione delle risorse avverrà subito dopo aver inserito La password di accesso alla rete Mentre i dispositivi wireless non saranno subito connessi alla rete Una volta rilevata Ma dovrai aver inserito la password di cifratura della connessione al collegamento senza fili E anche la password di connessione alla rete di condivisione Allora dopo aver creato la rete nel primo computer Diciamo quello principale Avrai la password di accesso al gruppo di condivisione E naturalmente già possiederai la stringa di cifratura della connessione wireless Per connettere un dispositivo senza fili ad una rete Dovrai cliccare sull'icona nella Sistray Icona delle connessioni senza fili Ossia connessioni wireless Ti comparirà la lista di almeno un dispositivo wireless Che sarà quello tuo Ma potrai trovarne come nel caso mio Altre presenti nella zona Nel tuo appartimento Nel tuo ufficio Naturalmente dovrai individuare quello di tua competenza In questo caso sarà una connessione a base di un modem router Netgear Dopo averlo individuato Naturalmente clicca su connetti Dopo questa azione Ti comparirà una schermata Nella quale dovrai inserire La stringa di cifratura Della connessione senza fili Successivamente Clicca su ok E il dispositivo tenterà di connettersi al modem router Se tutto funziona correttamente Otterrai la notifica di connessione realizzata Da questo momento in poi Il tuo dispositivo potrà già usufruire della connessione ad internet Che sarà condivisa Ovviamente per disconnetterti dal router Ossia dalla connessione senza fili Ti sarà sufficiente cliccare sul pulsante disconnetti Per avere anche la condivisione di rete Però dovrai farlo partecipare Alla rete che avrai creato A questo punto Dovrai ripercorrere semplicemente i passi Che hai eseguito Durante la creazione della rete capolata Che avrai già visto nella lezione precedente Allorché dovrai inserire la password relativa E a questo punto il dispositivo Che si basa su una connessione wireless Avrà l'opportunità di condividere quanto desiderato Potrai eseguire un copy and colla Visionare, rimuovere, stampare E tutto ciò che l'amministrazione della rete Naturalmente tu avrai deciso di far condividere Ai componenti della rete stessa Bene guter Eccomi all'interno del mio notebook Dal quale creerò una connessione wireless Al pc desktop E preleverò la stampante Connessa ad esso Quindi in locale Installando i driver direttamente su questo notebook All'inizio puoi notare Immediatamente l'assenza di connessioni O cablate o wireless Da questo notebook Verso altri dispositivi Come prima operazione Naturalmente eseguo l'accensione Tramite il pulsante relativo Del wireless di questo dispositivo Ho già attivato la connessione wireless Del router E come puoi ben vedere Il computer ha realizzato La presenza della connessione wireless Quindi cliccando su questa icona Avrò a disposizione Le reti Come puoi rilevare Ci sono altre reti disponibili In zona Al quale potenzialmente Sarà possibile Accedere Conoscendo la chiave di cifratura Nel nostro caso Accederò a questa Connessione wireless Gestita da un modem router Netgear E al quale mi connetterò Dopo aver inserito La chiave di cifratura Ora quindi clicco sul pulsante Netgear E cliccando successivamente Sul pulsante Connetti Mi verrà Rilevata L'assenza Della chiave di sicurezza Che io dovrò digitare Per semplicità Ho scelto Una chiave A 8 caratteri Dopo averla inserita Clicchiamo su Ok E se tutto funziona Correttamente Dopo qualche secondo Noterò La connessione realizzata Al router Da questo momento In poi Questo computer Potrà navigare Tranquillamente Su internet E potrò Decidere Di condividere Le risorse Software E hardware Verso Una precedente Connessione di rete Che come puoi vedere È già stata Rilevata Da questo computer Naturalmente Rete creata Nella precedente lezione E che puoi riprendere E visionare A questo punto Per collegarci Al pc desktop Tramite wireless Sarà sufficiente Cliccare sul pulsante Partecipa ora Selezionare Cosa condividere Come hai visto bene Nella precedente lezione Cliccando su avanti E inserendo I parametri Relativi Alla password Ricordo Stando ben attento O attenta Ad inserire Correttamente Le lettere In minuscolo O maiuscolo Per evitare Problemi di connessione Dopo aver inserito La password Clicca su avanti E se la password Inserita E tutto funziona Correttamente Dopo qualche secondo Questo computer Farà parte Del gruppo Home Clicchiamo pure Su fine E naturalmente Potrò Come è già ben visto La volta scorsa Visionare Le caratteristiche Della rete Oppure andare A condividere Ciò che viene Autorizzato All'interno Della rete stessa A questo punto Condividiamo La stampante Collegata Al pc Desktop Può installare I driver Della stampante O Da questo pulsante Aggiungendo Una stampante Oppure Cliccando Sul pulsante Start Individuando Il pulsante Dispositivi E stampanti Nella schermata Successiva Clicca pure Sul pulsante Aggiungi stampante Nella schermata Che si aprirà Clicca pure Su Aggiungi stampante Di rete Wireless O Bluetooth Si avvierà Una ricerca Dopo qualche secondo La stampante Verrà Evidenziata Interrompi Pure la ricerca In quanto L'hai Individuata Nel caso Fossero presenti Più stampanti Troverai La lista Di ogni stampante Collegata Al rispettivo Computer E messa In condivisione Dalla rete Creata A questo punto Dopo averla Selezionata Clicca pure Su Avanti Si avvierà La procedura Di download Dei driver Dal pc Desktop Al termine Del quale La stampante Verrà Acquisita Bene La stampante In questo caso Una Epson E' stata Acquisita All'interno Di questo Network Clicca pure Su Avanti Per terminare La procedura Ora potrai Decidere Di impostare Questa stampante Come Predefinita Ed eventualmente Stampare Una pagina Di prova Clicchiamo Pure su Fine Per uscire Dalla procedura Guidata La stampante Sarà Evidenziata All'interno Del pannello Di controllo Per cui riguarda I dispositivi Hardware Potrai A questo punto Individuare Le preferenze Di stampa E personalizzare Questa stampante In base Alle tue Necessità Scegliendo Tra le impostazioni Messe a disposizione Dal software Della stampante A questo punto Cliccando Su ok Sarai pronto Per stampare Dal tuo dispositivo A questo punto Direi che Il tuo livello E' già ben Elevato Termino Sottolineando Se non è già Stato ben chiaro Che La connessione Ad internet Per ogni computer Connesso Ad una rete E' garantita Non appena Avviene il collegamento O cablato O wireless Con il modem Router Ma Per la condivisione Di risorse Hardware E software Sarà necessario Creare una rete Dedicata Infine Lascia che ti indichi Delle risorse Utilissime Che ho Intercettato E scritte Da un personaggio Molto conosciuto Nel ramo Informatico Salvatore Aranzulla Che ti permetterà Di completare La conoscenza Delle reti E fornirti Ulteriori dettagli Nella realizzazione Fisica E i vari collegamenti Utilizzando Dei cavi Ethernet Infatti Ti cito Tre Articoli Il primo Che indica Come cablare Come realizzare Un cavo Ethernet La successiva risorsa Indica come cablare Una rete A base Di cavi Ethernet E infine Come poter Collegare Direttamente Due pc Senza passare Per altri dispositivi Infine Ti rimando anche Al sito Della Microsoft Che fornisce A questo indirizzo Una guida Molto dettagliata Passo passo Per la creazione Di un gruppo Home Tra l'altro Con l'aggiunta Di alcuni video Molto chiari Ti rimando Alla prossima lezione Per concludere Il percorso Relativo Alle connessioni In particolar modo Ti fornirò Alcune informazioni Da considerare Come appendice Al discorso Delle reti E comunque Delle connessioni Ad internet Ora come sempre Un forte saluto Ciao a presto Tagallo E alla prossima Ciao a presto Ciao a presto Ciao a presto Ciao a presto What vamos a presto InTri Lo Un Cannon mars Of As Da